Musica Quanti regali, quanti doni Che sono molto buona Davvero, sei molto buona, si vede anche Tra l'altro, allora, mazzo di carta assolutamente regolare Io avrei bisogno da te, Diletta, di un bello stop quando vuoi Io muoverò le carte in questo modo Tu dimmi solo stop quando vuoi, sei pronta? Via Quanti va bene o lo rifacciamo? No, si rifà Si rifà, c'è uno sempre in ogni serata Uno in ogni serata Un altro stop quando vuoi Quanti va bene o lo rifacciamo? Bene Prendi la carta, guardala, fa vedere anche in camera Così che la vedano anche a casa Mettila dove vuoi all'interno del mazzo Ok, Diletta, vuoi mischiare o mischio io? Mischio io, mischio io Ora, Diletta, ti chiedo di fare una cosa semplicissima Pensare alla tua carta e muoveri delicatamente la tua mano sulla mia, prego Che è una ruspa questa, proprio morbida, brava Continua, 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 continua Questo non serve a niente ma a me mi piace tanto Grazie, Diletta Aspetta, devo ritrovare la tua carta, mi ricordavo manco più Diletta, io vorrei No, io sono assolutamente sicuro che tu hai scelto una carta molto particolare Perché hai scelto una delle carte che a me piace di più Stai attenta, la facciamo uscire in maniera particolare Busso due volte così Toc 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 Voilà Sì o sì? Sì Auguri, buon Natale Ok La Diletta Grazie